Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo breve video di App Video Review dove vi lanciamo un contest relativo a Pulse, il lettore di feed RSS di cui vi abbiamo fatto la recensione alcuni giorni fa e di cui mettiamo oggi in paglio tre codici redeem per scaricare gratuitamente Pulse da App Store sul vostro iPad. Tutto quello che dovete fare, come tutte le altre volte, è iscrivervi al nostro canale YouTube di App Video Review, mi raccomando premete su subscribe, su iscriviti e poi lasciate un commento qui sotto il video indicando che volete partecipare al contest per l'estrazione dei codici redeem di Pulse. Il termine per la partecipazione sarà venerdì 16 luglio alle 23.59, mi raccomando partecipate numerosi e a presto, ciao!